Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. San Valentino, giro d'affari da 350 milioni di euro. Secondo le stime del Coda, con circa 12 milioni di innamorati, spenderanno in media 30 euro a testa per il proprio partner. Cioccolatini e fiori restano i regali più gettonati. E tu, quanto spenderai per festeggiare il tuo amore e cosa gli regalerai? Penso poco questa... Solo cioccolatini ho deciso. Tanti cioccolati, lo vuoi far ingrassare? Fondenti, però quindi poco. Troppo. Perché troppo? Perché andrò a cena con l'amorosa e ovviamente sei uomo quindi offri. Ma si dice che non è mai abbastanza in realtà per amore, no? Eh, insomma, dipende da quanto prendi di stipendio. Giusto. E non andate al McDonald's a mangiare? No, direi di no, anche perché se no il giorno dopo me li trovo single. E festeggio di nuovo comunque. È vero, sarebbe una doppia festa. Sarebbe essere interessante. Sono single per cui non festeggio. Come la passerai questa giornata allora? Non lo so, penso sui libri perché devo preparare gli esami, quindi è un giorno come un altro per il momento. Ti è capitato in passato di festeggiare San Valentino da fidanzato? Sì. Ti aspettavi dalla tua dolce metà dei regali importanti oppure non te ne frega niente? No, non me ne frega niente, no, però non vedo, cioè penso che ci siano giornate più importanti da festeggiare o comunque che i regali non devono essere fatti solo perché è San Valentino, ma comunque uno deve fare un regalo quando se la sente o per la persona a cui tiene. Quindi fai parte di quella schiera di persone che dicono San Valentino è una festa commerciale? Sì, molto. Fai parte di quelle persone invece che si aspettano grossi regali dalla loro dolce metà? No, quest'anno no. Abbiamo già deciso di spendere poco insieme, quindi... Festeggerete, andrete fuori a cena oppure no? Sì, solo quello. Quindi comunque siete una coppia che spende un pochino per San Valentino? Ma sì, il minimo. No, no, l'importante è star bene. Poi per il resto è indifferente, ecco. Ok, grazie.